Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, un altro episodio di Non puoi non saperlo della serie Storia della politica italiana nelle parole dei suoi protagonisti e questo episodio è dedicato al nostro nuovo Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Allora, prima di cominciare, brevevisivamente vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo dando un'occhiata ai miei libri, li trovate tutti su Amazon, vi lascio un link in descrizione, è il libro che raccoglie appunto questa tematica, della storia della politica italiana nelle parole dei suoi protagonisti, è questo, e appunto lo trovate su Amazon. Bene, andiamo avanti, allora, eccolo qua, Matteo Salvini nasce il 9 marzo del 1973 a Milano, dopo aver conseguito il diploma al liceo classico Manzoni, nel 1992 si iscrive alla Facoltà di Storia dell'Università Statale, ma non concluderà gli studi. Iscritto alla Lega Nord, dall'età di 17 anni, nel 1993 viene eletto consigliere comunale a Milano, e l'anno successivo diventa responsabile cittadino del Movimento Giovani Padani. Mantiene la carica fino al 1997, anno in cui è capolista nelle elezioni per il Parlamento della Padania, con la corrente Comunisti Padani, che otterrà solo 5 seggi su un totale di oltre 200. Nel 1998 diventa segretario provinciale della Lega Nord a Milano, e dall'anno successivo è direttore dell'emittente radiofonica leghista Radio Padania Libera. Nel 1999, nel corso di una visita ufficiale dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi, a Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, si rifiuta di stringere la mano al Presidente, dichiarando di non sentirsi rappresentato da lui. Nel 2001 sposa Fabrizia, giornalista di una radio privata, con la quale nel 2003 ha un figlio, Federico. L'anno successivo viene eletto al Parlamento europeo con oltre 14.000 preferenze. Come assistente parlamentare sceglie Franco Bossi, fratello di Umberto. Nei due anni di permanenza a Strasburgo, Salvini è membro della Commissione per la Cultura e l'Educazione, sostituto nella Commissione per l'Ambiente, la Salute Pubblica e la Sicurezza Alimentare, è membro della Delegazione per la Commissione parlamentare congiunta tra Unione Europea e Cile. Nel 2006, dopo aver ottenuto oltre 3.000 preferenze alle elezioni amministrative, Salvini lascia il suo posto da parlamentare europeo e torna in Consiglio Comunale a Milano come capogruppo della Lega Lombarda, la sezione tra virgolette nazionale Lombarda della Lega Nord. di cui diventa anche vice-segretario nazionale. Nel 2008 viene eletto deputato alle elezioni politiche nella circoscrizione Lombardia, ruolo che però lascia l'anno successivo quando viene nuovamente eletto al Parlamento europeo. Nel 2012 ha una seconda figlia, Mirta, avuta con la sua nuova compagna Giulia, conosciuta dopo il divorzio dalla prima moglie. Nello stesso anno viene eletto un nuovo segretario della Lega Lombarda e lascia il suo ruolo di consigliere comunale a Milano. Nel 2013 si candida alle elezioni politiche e viene eletto, ma il primo giorno della legislatura si dimette per proseguire l'attività all'Europarlamento, dove entra a far parte del gruppo euroscettico di destra, Europe of Freedom and Democracy. È inoltre membro della Delegazione per le Relazioni con l'India, della Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori e della Delegazione per le Relazioni con la Penisola Coreana, oltre che sostituto nella Commissione per il Commercio Internazionale, nella Delegazione per le Relazioni con il Sudafrica e nella Delegazione per le Relazioni con il Canada. Il 7 dicembre del 2013 viene eletto nuovo segretario della Lega Nord, al posto di Roberto Maroni, che comunque lo sostiene, con oltre l'82% dei voti, battendo ampiamente lo storico leader della Lega Nord, Umberto Bossi. Dal 2015 la sua nuova compagna è la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. In occasione delle elezioni politiche del marzo 2018, Salvini cambia il nome del partito, togliendo la parola Nord e inserendo Salvini Premier. I risultati elettorali gli danno ragione, la Lega infatti supera Forza Italia nei consensi e diventa il primo partito della coalizione di centrodestra. Coalizione che vincerà anche le elezioni per la presidenza della regione Lombardia con Attilio Fontana. Il 1 giugno del 2018 Matteo Salvini assume la carica di Ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri del Governo Conte, come ben sappiamo. Un esecutivo appoggiato dalla coalizione Lega Movimento 5 Stelle. Molto bene, passiamo adesso alle citazioni. E allora, rifiutandosi di stringere la mano al Presidente della Repubblica, Carlo Azzeglio Ciampi, Salvini dichiara «No grazie dottore, lei non mi rappresenta». Se Craxi mette piede in Italia, passi da San Vittore. Io, prima che leghista, sono bussiano. Per Umberto nutro un'autentica venerazione. Parlando del budget per la campagna elettorale alle europee del 2004, Salvini dichiara «10 milioni di lire», perché per me l'euro non esiste. Arriverà prima la padania libera della mia laurea. Uso i mezzi a Milano da 20 anni. E vista l'arroganza, la maleducazione e la violenza che regnano, ho scritto il Presidente di ATM perché valuti la possibilità di riservare le prime due vetture di ogni convoglio alle donne che non possono sentirsi sicure per l'invadenza e la maleducazione di molti extracomunitari. E andando avanti così le cose, saremo davvero costretti a chiedere dei posti da assegnare ai milanesi. Sono davvero una minoranza e come tale va tutelata. Il cardinale Dionigi Tettamanzi è lontano dal sentire collettivo, quando si ostina a rappresentare i Rom come le vittime del sistema invece che la causa di molti problemi. A Radio Padania hanno chiamato molti ascoltatori cattolici che dicono «le guance da porcere sono finite». Ecco, il cardinale Tettamanzi è quello che vediamo in questa slide. Ecco, questa è una famosa gaffe rispondendo alla domanda di Mentana «Il tema dei ministeri a Roma può costituire il caso sbelli?» E Salvini risponde «Quanto belli, quanto grandi, quanto splendenti siano i ministeri a Roma, onestamente, mi interessa molto poco». «Che ne pensate di sciripoti?» «Siamo alleati, non stiamo parlando di un marziano». Molti leghisti, gente pragmatica e concreta, dicono che il fine giustifica i mezzi. Uno si tura il naso e fa un tratto di strada insieme a sciripoti. Io sono entrato in lega che Gianfranco Miglio mi spiegava, e sono d'accordo, che pur di arrivare al federalismo ci si alleava anche col diavolo. Magari sciripoti è leggermente meglio del diavolo, e quindi mi accontento. Il matrimonio è fra un uomo e una donna, e i figli nascono da un uomo e da una donna. Senza la famiglia fondata su una mamma e su un papà, la società finisce. Quel libro presenta ai bambini l'unione di due donne come modello della nuova famiglia. Quel testo genera confusione, e, senza limitare la libertà di alcuno, ritengo che non sia appropriato finisca in mano a bimbi di sei anni con concetti complessi come la fecondazione artificiale. Balotelli è simpatico, ma lo vorrei solo al Milan. Per me il calcio finisce con il Milan. La partita dell'Italia non la vedrò. Domani sera approfitterò del deserto che ci sarà in città per uscire con la fidanzata. L'euro al sud non se lo meritano. La Lombardia e il nord l'euro se lo possono permettere. Io a Milano lo voglio perché qui siamo in Europa. Il sud invece è come la Grecia e ha bisogno di un'altra moneta. L'euro non se lo può permettere. Insultare un calciatore solo per il colore della sua pelle è un atto di razzismo e va condannato. Supertassare milioni di cittadini solo perché vivono al nord è un atto di razzismo e va combattuto. Uno stato dove un'azienda non riesce a licenziare un dipendente come Schettino si merita di fallire. Bersani dice che se le regioni del nord tratterranno a casa loro e useranno per i loro cittadini il 75% delle loro tasse, per l'Italia sarà un problema. Mi piace. Mettere nelle spese da ricchi del redditometro le donazioni alle associazioni di volontariato e le spese per il veterinario è una roba da matti. Napolitano si indigna per una battuta di Calderoli. Ma Napolitano si indignò quando la Fornero, col voto di PD e PDL, rovinò milioni di pensionati e lavoratori? È assurdo affidare una bimba a due gay. Pare davvero ci sia qualcuno che vuole un mondo alla rovescia. L'euro è un crimine contro l'umanità. Prima salta l'euro, prima posso riprendere la battaglia per l'indipendenza. I poverini non sono quelli di Lampedusa che vengono disinfettati. I poverini sono i cittadini di Lampedusa e di Bergamo che poi vengono derubati da chi viene disinfettato. Sapete che la Russia ha scelto di sospendere le adozioni con tutti i paesi stranieri tranne che con l'Italia? Perché qui non ci sono coppie gay che possono adottare un bambino. Se è così, viva la Russia! Per la Lega, gli enti inutili da tagliare non sono le province, ma le prefetture. Non rappresentano niente e nessuno. Costano un botto, non sono elette e, come diceva Einaudi 70 anni fa, sono contro la democrazia. E se un datore di lavoro deve evadere le tasse per sopravvivere, non è un evasore, ma è un eroe. Noi non siamo euroscettici, anzi, siamo i più grandi sostenitori dell'Europa. Ma questa Unione Europea è da abbattere a bastonate. A proposito della già menzionata corrente comunisti padani alle elezioni padane del 1997, Salvini dichiara Io ritenevo e ritengo che alcuni valori di sinistra, come la difesa dell'ambiente, la difesa degli operai, la difesa del lavoro, li porti avanti la Lega e non più una certa sinistra. Se la sinistra è quella che si occupa solo degli immigrati e dei carcerati, allora non è la mia roba. Sull'espressione Roma ladrona, non è mai stata contro i cittadini. Se le istituzioni fossero state a Milano, avremmo detto Milano ladrona. Se si votasse domani il centro-destra non esiste. Io rinuncio a qualcosa di mio se c'è un progetto comune. Se dovessi andare al voto domani andrei solo con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. A me preme costruire alleanze su temi veri, come l'immigrazione e il lavoro. Per questo parlo con tutti, con Casa Pound e con la FIOM, che tra l'altro mi ha invitato al suo prossimo congresso. Se riesco ci vado volentieri. Per quanto mi riguarda, chi compie una violenza sessuale una volta non deve poterla compiere più. Stiamo studiando un progetto di legge sulla castrazione chimica. Ecco qui mi permetto di dire, appunto, se me lo permettete, che sono in questo caso assolutamente d'accordo. Ma la signora Elsa Fornero ha ancora il coraggio di parlare. E lo già Renzi difende la sua schifosissima riforma delle pensioni, che grazie alla Lega verrà cancellata, e dice che l'Italia è un paese fascista. Andrebbe esiliata su un'isola deserta. Mi chiede se sono antifascista? Fascismo e comunismo sono morti. Sono antifascista come sono anticomunista. Se qualcuno pensa davvero che possono tornare fascismo e comunismo, va aiutato, va abbracciato. Se Silvio Berlusconi non contrasta a tutto campo Matteo Renzi, è perché teme una legge sui diritti TV che penalizzi Mediaset. Destra e sinistra, roba vecchia. Oggi la differenza è tra i pochi potenti che comandano e guadagnano, lobby multinazionali, banchieri, finanza, e i molti a cui questa Europa di folli ha rubato lavoro e futuro. Per vincere una battaglia bisogna capire di essere in battaglia. Sono sempre più convinto che sia in corso un chiaro tentativo di sostituzione etnica di popoli con altri popoli. È semplicemente un'operazione economica e commerciale finanziata da gente come Soros. Bene, questo è tutto per quanto riguarda Salvini e le sue citazioni. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi di Non puoi non saperlo e se volete sostenerlo il canale potete dare un'occhiata ai miei libri. Li trovate tutti su Amazon e vi dasci un link in descrizione. Ciao a tutti e alla prossima!